Dopo milioni di anni di evoluzione, si sono create le condizioni per qualcosa di nuovo, di diverso. Sono arrivate nuove specie di animali da pascolo. Incontriamo uno degli animali più curiosi della razza umana. È stato necessario un grande aiuto da parte degli scienziati. È la creatura che ha ispirato i film della serie Alien. Come spiegare la sua grazia e flessuosità? A orecchie sensibili in grado di ruotare di 180 gradi è una vista acutissima. Percepiscono suoni che sfuggono all'orecchio umano. Persino l'olfatto è molto più sviluppato di quello dell'uomo. Benché normalmente si spostino su quattro zampe, sono in grado di correre su due. La sua capacità di socializzare è ancora allo stato primitivo e ancora non ha idea di come integrarsi. In realtà tutto il gruppo ha problemi. Cammina sulle punte come una ballerina di danza classica. Si è abituato a convivere con i dinosauri. Una vespa succhia il polline. Può succedere qualsiasi cosa. Per non attirare l'attenzione dei predatori. Finge di essere morto. Non resta che darsi alla fuga. Hanno inventiva e capacità eccezionali. Ciao.